Raffaello Tonon con Ginevra Lambruschi, 19enne ex di Niccolò Bettarini, bello stare con lei L'accoppiata che non ti aspetti Raffaello Tonon, il 38enne ex concorrente del grande fratello VIP che ha conquistato il pubblico di Canale 5 soprattutto grazie alla genuina amicizia nata della casa con Luca Onestini, sta frequentando Ginevra Lambruschi, 19enne influencer dal fisico sensuale che è nota al grande pubblico soprattutto per la passata relazione con Niccolò Bettarini. Poteva diventare nuora di Simona Ventura, e invece, diversi mesi dopo la fine della storia con Betta e Lunga R, e con la insieme a Tonon, con cui è stata paparazzata a Sanremo da Spy. I due appaiono in atteggiamenti decisamente intimi ed è lo stesso Raffaello a raccontare al settimanale la loro complicità. A breve di parlerà di coppia a tutti gli effetti?. La mia Ginny è una ragazza strepitosa, è di una bellezza e è una ragazza simpatica e grintosa, è bello stare con lei. L'altra sera ci siamo molto divertiti, peccato che poi lei sia dovuta rientrare a Milano. Raffaello innamorato di Ginevra?. Non ha spiegato di conoscere Ginevra prima da prima dell'incontro a Sanremo, ci siamo incontrati una sera a cena a Milano, con amici comuni, e ci siamo subito trovati. Infatti avevamo in programma di rivederci dopo la mia uscita dal grande fratello Vip, ma poi gli impegni lo hanno impedito. Raffaello resta insomma ambiguo, senza lasciar capire se davvero tra i due stia nascendo un amore. Non esageriamo. Guardi che io non sono mica un tipo che si innamora facilmente. Però è. Tonon in passato fidanzato con Rossana Feola. Nel passato di Tonon, l'unica ex fidanzata nota è Rossana Feola, al suo fianco per ben otto anni. Da tempo ufficialmente single, il Gieffina ha tirato spesso pettegolezzi su una presunta omosessualità tenuta segreta. Lui, di recente, si è limitato a parlare di morbosità non necessaria nei confronti della sua vita privata, che non ha mai avuto interesse a divulgare. Forse anche per questo sul legame con Ginevra resta vago, pur lasciando intendere come la differenza d'età non sia un problema. Raffaello apprezza anche i numerosi tatuaggi sfoggiati dalla giovanissima web star, ribadendone la bellezza, non ci vedo nulla di male. Del resto è una donna che ha una grande personalità, è grintosa e, mi creda, è gradevole sotto tutti i punti di vista. Gli amori di Ginevra Lambruschi, anche a uomini e donne. Oltre alla storia con Niccolò Bettarini mi ha mollata senza un motivo, ha raccontato lei, Ginevra è nota anche per una brevissima apparizione a uomini e donne, dove ha corteggiato Marco Cartasegna. Si mormora anche di flirt con Gianmarco Valenza e con Stasch Fjordispino dei Colors. Che è anche quest'ultimo a Sanremo, ma in queste foto lei sembra avere occhi solo per Ton Nonno. Che non si lascia impensierire dalle voci sul passato della ragazza. So che è stata con il figlio di Simona Ventura, di questo ne abbiamo parlato, ma degli altri due non ne sono a conoscenza. Comunque la Ginny è talmente bella che chiunque potrebbe perdere la testa per lei. Comunque la Ginny è talmente bella che chiunque potrebbe perdere la testa per lei.